Amici e amici di Supergen, Buongiorno e ben ritrovati a di prima mattina la nostra rassegna stampa, torniamo in diretta dopo la lunga campagna elettorale, insomma la lunga notte elettorale che ha visto le elezioni regionali, vi ringraziamo ancora innanzitutto per essere stati con noi in compagnia appunto dei nostri colleghi, torniamo quindi in diretta perché l'Abruzzo si sveglia con un nuovo presidente regionale, oggi è lunedì 11 febbraio 2019 e appunto dopo il governo capeggiato dal centrosinistra di Luciano D'Alfonso, l'Abruzzo svolta a destra, quindi guarda appunto con il nuovo presidente Marco Marsilio al centrodestra e soprattutto con il traino, insomma con la Lega che diventa di fatto il primo partito guidando la coalizione di centrodestra alla vittoria delle elezioni regionali, da segnalare il crollo per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle rispetto ai dati nazionali con la coalizione di centrosinistra guidata da Giovanni Lenini che arriva seconda, riguardo poi i partiti si mantiene comunque il trend nazionale, lo andremo anche a vedere tra poco, prima però leggeremo insomma la prima pagina del quotidiano il centro, tra poco vedremo tutte le percentuali aggiornate seggio per seggio con appunto i risultati delle varie liste e poi ovviamente dei tre candidati presidenti, ma lo ricordiamo Marco Marsilio quindi della coalizione del centrodestra e il nuovo presidente della regione Abruzzo, alterneremo oggi la rassegna stampa, dedicheremo la prima parte soprattutto alle analisi, insomma ai risultati delle elezioni regionali, avendo anche degli importanti contributi con delle interviste e poi nella seconda parte manterremo diciamo lo stile più classico, quindi andremo a vedere praticamente tutti i titoli della cronaca e anche della pagina sportiva. Ma iniziamo quindi andando a vedere quello che è il titolo, insomma la prima pagina del quotidiano il centro che dedica ovviamente il titolo al nuovo presidente della regione Abruzzo, Marsilio eletto presidente, vantaggio incolmabile per il candidato del centrodestra che dichiara ora al lavoro per l'Abruzzo. La coalizione civica di Lenini supera nettamente il movimento 5 Stelle di Marcozzi, lo ripetiamo, è appunto un risultato questo abbastanza come dire a sorpresa, nel senso c'è il crollo del 5 Stelle rispetto alle nazionali, insomma rispetto al trend nazionale, però lo ripetiamo, il 5 Stelle resta ai numeri il secondo partito, quindi supera sia Forza Italia che il Partito Democratico, c'è comunque appunto da sottolineare il risultato, il secondo posto praticamente ottenuto da Giovanni Lenini. Ricordiamo anche che c'erano due coalizioni, il Movimento 5 Stelle correva da solo insieme al quarto candidato che era appunto Flaiani di Casa Pound. Andando a vedere poi nello specifico, quindi scorrendo il quotidiano il centro, si fa questa analisi con appunto Marsilio presidente, vince il centrodestra, il primo commento appunto del nuovo presidente della nostra regione, risultato straordinario. La Lega fa da trai, noi andremo a vedere davvero la Lega ha sbancato, come si dice in gergo, per quanto riguarda il risultato personale, quindi la sola lista, Lenini che dichiara ci davano terzi, siamo al 30%, da qui dobbiamo ripartire. E come abbiamo detto c'è stato un evidente comunque calo del Movimento 5 Stelle rispetto alle elezioni nazionali, che però appunto sono altra cosa, quindi bisogna dargli un'interpretazione completamente diversa. Viene premiata quindi la coalizione che è stata guidata dal candidato di Fratelli d'Italia, appunto Marco Marsilio, e tra l'altro ieri a Pescara c'era anche ovviamente la Meloni e tra poco l'andremo ad ascoltare, la Meloni che abbraccia insomma il suo candidato, siamo la prima regione guidata da Fratelli d'Italia. Quindi insomma a livello politico è un risultato prestigioso per la Meloni, ma chi esulta ovviamente è Salvini, che tramite i social, in questo caso su Facebook, esclama Grande Abruzzo, lo ripetiamo. Se c'è un vincitore, poi se sulla carta ha vinto Marsili, essendo il candidato, di fatto è la Lega che ha fatto veramente da traino. E nel giorno delle elezioni tra l'altro c'è stata anche questa polemica con il ministro dell'interno, appunto Salvini, che ha infranto il silenzio elettorale con un post dove appunto incitava gli elettori ad andare a votare Lega per quanto riguarda in Abruzzo, è scoppiata insomma questa polemica e non è tra l'altro la prima volta che Salvini è al centro di queste polemiche per, come dire, aver infranto il silenzio elettorale. Allora, questo è per quanto riguarda appunto il quotidiano Il Centro e in questo caso facciamo adesso un'alternanza, quindi andiamo a vedere dal centro che cosa intitola invece Il Quotidiano Il Messaggero. Ovviamente si dà spazio alla vittoria netta, tra l'altro appunto anche qui Marsilio senza rivali, alle spalle però c'è Lennini, il candidato del centro-destra al 49%, ovviamente queste sono percentuali che andremo ad aggiornare e le vedremo tra pochissimo. Il Movimento 5 Stelle crolla al 21,2%, l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Lennini, a quota 28,7%, l'affluenza in lieve calo. E tra l'altro appunto anche qui un dato che c'è stato appunto un calo per quanto riguarda le affluenze, la polemica tra l'altro, l'appello sui social di Salvini, il silenzio è stato violato, quindi l'abbiamo detto, l'abbiamo visto anche prima, silenzio violato da parte del Ministro dell'Interno. Allora abbiamo avuto, appunto avremo tra poco, vedremo i contributi video per quanto riguarda le interviste, ma lo abbiamo detto, abbiamo anche le grafiche, quindi con l'aiuto appunto delle nostre grafiche andiamo a vedere tutto il quadro completo, siamo appunto a 1184 sezioni su 1633, quindi praticamente lo abbiamo detto, i giochi sono ormai fatti, e vedete che alla vostra destra c'è davvero una netta vittoria della coalizione di centrodestra che è praticamente al 52%, 51,98%, Legnini che segue al 33,32%, Sara Marcozzi che ottiene la medaglia di bronzo, sportivamente parlando, con il 20,38%. Vedete anche tutte le altre liste e ovviamente balza in primo piano, tra l'altro appunto bisogna ancora aggiornare, sì, dobbiamo ancora aggiornare, comunque ovviamente a breve aggiorneremo per quanto riguarda le percentuali, percentuali, comunque resta il fatto, e tra poco andremo a vedere, che abbiamo detto la Lega è nettamente il primo partito della nostra regione, quindi c'è da sottolineare questo dato, ovviamente un dato a sorpresa tra virgolette, ma non tanto visto comunque il trend nazionale, ci si aspettava una vittoria di Marsilio, ma ovviamente ha stupito tantissimo la netta vittoria del partito guidato da Matteo Salvini che da secessionista, quindi da partito anche regionalista, insomma limitato soltanto ai tempi, per come era nato alle regioni del Nord Italia, sta diventando sempre di più un partito nazionale, ottiene consensi e quindi davvero è stato il traino per la vittoria di Marsilio. Tra l'altro nell'intervista che poi andremo ad ascoltare della Meloni, c'è stato anche un passaggio, insomma è stata fatta una domanda alla Meloni riguardo anche questo traino della Lega e rispetto appunto alla situazione nazionale, la Meloni che ha un po' sviato, effettivamente la Lega ha sempre questo compromesso con i 5 Stelle e quindi si deve anche vedere poi se nel dato nazionale si può tornare a una sorta di coalizione tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Nord. Allora vediamo se i dati sono aggiornati, quindi ancora stiamo aggiornando appunto, ancora stiamo aggiornando i dati, in questo caso possiamo comunque andare a vedere nello specifico, in questo caso vediamo appunto un dato per quanto riguarda la rassegna stampa, si parlava dell'affluenza in questo caso per quanto riguarda la giornata elettorale, ci sono state tantissime, come dire, tantissime situazioni anche abbastanza folcloristiche, ad esempio a Pescara scambiano il dormitorio per un seggio elettorale, multe a chi ha votato in ZTL, in tanti dirottati da Via Lago Sant'Angelo nelle sezioni di Via Sacco e Via Salari, i commercianti togliete le contravvisioni a chi è andato in auto alle urne, quindi insomma c'è anche chi ha preso la multa, poi a Chieti per quanto riguarda appunto la provincia di Chieti vota dopo la festa ai 18 anni, un sacerdote è svenuto in cabina, il dato che però interessa, in questo caso a Teramo c'è stato il minimo storico dei votanti, quindi in questo caso è un dato che interessa la provincia di Teramo, sono state disertate le urne, meno 13% di elettori rispetto alle regionali di 4 anni fa, e tra l'altro a Giulianova è stato allestito un seggio volante per far votare una paziente ricoverata in rianimazione, sempre nella stessa città appunto a Giulianova, gli anarchici hanno coperto i manifesti sui tabelloni con altri che invitavano a non votare, sono stati segnalati da alcuni attivisti di azione politica, che hanno appunto anche stilato, hanno fatto intervenire i carabinieri, che hanno stilato anche un rapporto. Per quanto riguarda invece altre curiosità all'Aquila, la Lega ha cestinato praticamente le 99 mani, c'era l'installazione di arte resistente alle cannelle, il Comune ha mandato gli addetti a rifiuti, mentre da Vezzano, anche qui a Fluenza e Netto Calo, a Sulmona, addirittura ha votato il partigiano malvestuto con l'età di 98 anni, facendo anche un appello prima di andare a votare, lo vedete anche in foto ex ufficiale della Brigata Maiella, che ha rivolto appunto questo appello agli elettori. Ricordiamo quindi che Marsilio è il presidente della Regione Abruzzo, in questo caso adesso abbiamo appunto anche tutti i dati aggiornati, quindi possiamo andare a rivedere con l'aiuto delle grafiche la situazione completa, in questo caso sezioni scrutinate 1.214 su 1.633, vedete come aumenta ancora di più la percentuale di Marsilio che sale al 53,23%, Lenini al 34,39%, la Marcozzi al 21,16%. Primo partito, andando a vedere poi nello specifico, lo abbiamo detto più volte, è la Lega che ottiene il 30,21%, quindi davvero un risultato pazzesco sotto tanti punti di vista, ripetiamo c'era il pronostico comunque a favore della coalizione centrodestra, ma la Lega davvero è la vera vincitrice di queste elezioni regionali, tra l'altro anche qui lo abbiamo detto, il Movimento 5 Stelle da solo, quindi senza coalizioni, prende di più sia di Forza Italia che del Partito Democratico, ma poi andando a vedere appunto per un discorso di coalizioni, Lenini arriva secondo grazie appunto anche alle liste civiche, ripetiamo c'erano tantissime liste civiche e le vedete anche qui, tra l'altro la sua ha preso, la sua personale il 6,30%, il Partito Democratico che ha fatto da tra, non era l'unico partito diciamo politico all'interno della coalizione, ha preso il 12,24%, forse anche qui la coalizione centrosinistra che paga un po' le tante anime al suo interno, al contrario invece del blocco diciamo monolitico di centrodestra che ha dato come dire anche un po' un'impronta chiara e soprattutto sono scesi in campo i leader nazionali, sia Salvini, Berlusconi e Lameloni sono venuti più volte in Abruzzo a sostenere la candidatura di Marsilio, così come anche hanno fatto, come ha fatto Di Maio per quanto riguarda la Marcozzi. Per quanto riguarda invece i tre candidati possiamo vedere con l'aiuto della grafica, praticamente andiamo a vedere i risultati singoli in questo caso, quindi vediamo anche le percentuali, eccole qui, quindi abbiamo detto appunto Lenini al 34,39%, Marsilio 53,23%, la Marcozzi al 21,16%, allo 0,52%, questi quindi dati abbiamo visto qui 74,34% delle sezioni scrutinate, Vittoria ormai netta da parte di Marsilio ma vedete che supera ampiamente il 50%, quindi davvero è un segnale chiarissimo lanciato dall'elettorato che svolta letteralmente a destra appunto nei confronti a livello politico, la centrosinistra si passa al centrodestra. Allora, abbiamo dei contributi video, quindi ci sono state appunto ieri, grazie ai nostri colleghi che hanno operato davvero una maratona elettorale a tutto campo, abbiamo appunto le interviste, andiamo ad ascoltare in questo caso il vincitore delle elezioni, quindi il nuovo presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ai microfoni di Fabio Talamonti. E' la vittoria degli abruzzesi per bene che meritano il riscatto, non meritavano di essere condotti nella strada di declino e di tristezza in cui questa regione è stata abbandonata dal governo del Partito Democratico e di Luciano D'Alfonso. Un divario così ampio con la Lega che diventa, o meglio, rimane il primo partito abruzzese? Io ho già commentato positivamente il fatto che la Lega sia uscita dal confine di un partito regionalista o in alcuni anni addirittura secessionista, perché avendo io una cultura patriottica molto sviluppata e credendo molto nella unità nazionale, vedere che un partito come la Lega diventa un partito di profilo nazionale e che ha a cuore l'interesse non solo di un pezzo dell'Italia, ma di tutta l'Italia, quindi questa sua prova di governo in una regione del centro-sud sarà, come dire, il battesimo del fuoco per fare e mostrare che questa positiva evoluzione si è compiuta e si sta compiendo. Apprezzo e stimo Legnini e Marcozzi, penso che abbiano fatto fino in fondo la loro partita, la loro campagna elettorale, non so se anche la Marcozzi sarà eletta nel Consiglio regionale, comunque qualora fosse, mi farà piacere averli entrambi, perché io penso che su alcune vicende avere avversari competitivi e stimolanti non può che fare bene alla competizione e un domani avere un'opposizione guidata in maniera autorevole da personalità forti non può che aiutare il governo della regione ad esprimere il meglio di se stesso. Salvini sarà in Abruzzo prossimamente? Ha annunciato che tornerà in Abruzzo frequentemente, lo stesso ha fatto Silvio Berlusconi, lo stesso ha fatto Giorgia Meloni, lo stesso hanno fatto tutti i leader nazionali della coalizione. È un impegno importante che per me sarà bene e utile mantenere per l'Abruzzo, perché all'Abruzzo serviva e serve attenzione da parte del Parlamento e del Governo nazionale. La mancata presenza di personalità di questo profilo ha condotto l'Abruzzo in una condizione di emarginazione da cui deve assolutamente uscire al più presto. Abbiamo sentito le parole del nuovo Presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e tra l'altro la domanda anche di Fabio Talamonti sul traino della Lega. Abbiamo ascoltato, è una situazione anche abbastanza particolare perché, ripetiamo, a livello nazionale la Lega è al governo con il momento 5 Stelle, a livello locale comunque si è deciso di fare questa coalizione. La Lega che comunque ha comandato nettamente anche lo stesso partito di Marsilio ha ottenuto pochi voti per quanto riguarda le percentuali, visti anche gli alleati in questo caso che erano sia Lega che Forza Italia. Quindi si vedrà anche se le elezioni regionali abruzzesi potranno aprire una sorta di spiraglio per una nuova coalizione di centrodestra, questo per quanto riguarda a livello nazionale. E a proposito di leader nazionale, ovviamente ieri era presente a Pescara nella sede elettorale di Marco Marsilio la leader di Fratelli d'Italia, quindi stiamo parlando di Giorgia Meloni che ha festeggiato la vittoria con il suo candidato, lo ricordiamo, è la prima regione nazionale ad avere un Presidente di Fratelli d'Italia. Quindi andiamo ad ascoltare sempre al microfono di Fabio Talamonti le dichiarazioni di Giorgia Meloni dopo appunto aver appreso la vittoria di Marsilio. Si aspettava un divario importante in punti percentuale? Sì, me lo aspettavo perché ho girato molto l'Abruzzo, perché noi partivamo avvantaggiati ma abbiamo mi pare anche saputo fare una bella campagna elettorale con una persona che è stata capace di farsi voler bene, di entrare in punta di piedi ma con determinazione, con umiltà nelle case degli abruzzesi e ho capito verso la fine della campagna elettorale che il divario stava aumentando. Da una parte la concretezza, la credibilità, la serietà di una campagna elettorale fatta sui temi e dall'altra un po' chi a Roma si dice la buttava in cacciara nel senso o chi parlava solo di noi o chi parlava di grandi temi ma non riusciva a entrare nel concreto delle questioni abruzzese. Mi pare che le cose dicano che chi parla di problemi della gente alla fine viene ascoltato. Cosa ha peccato secondo lei il PD, il Partito Democratico? E in che cose è andato più in su il centro-destra? O meglio anche se le vuole dire un appunto su Fratelli Italia? Ma guardi, il PD ha peccato in come ha governato in questi anni l'Abruzzo la verità è che al di là della costruzione che il candidato del centro-sinistra tentava di fare ogni giorno siamo in recupero, andiamo forti, non sono mai stati in partita e bastava farsi un giro qui in Abruzzo per capire quale fosse l'umore della gente verso la sinistra perché questa è una terra che è stata massacrata da questi anni di amministrazione del PD e il PD lo sa così bene e D'Alfonso lo sa così bene che si è andato a garantire una poltrona a Roma per evitare di non essere rieletto quindi non credo che ci sia mai stata reale competizione francamente e le cose sono andate come dovevano andare e oggi i cittadini sanno che come governa la sinistra non si fidano del governo del Movimento 5 Stelle sanno che invece dove governa a livello regionale il centro-destra le risposte arrivano E la vittoria di chi? E la vittoria di Fratelli d'Italia su tutti perché noi abbiamo chiesto di poter guidare la coalizione in questa regione proprio perché crediamo qui di poter dare delle risposte importanti poter dimostrare quanto valiamo la prova del governo e perché mi pare che anche a livello di percentuale di partito Fratelli d'Italia insomma abbia avuto una bella risposta e quindi oggi è proprio un giorno in cui io festeggio volentieri Queste quindi le parole di Giorgia Meloni ovviamente soddisfattissima per il risultato non solo delle elezioni regionali ma anche appunto l'avete sentito del suo partito Fratelli d'Italia lo abbiamo visto anche appunto nelle grafiche gli sconfitti anche in questo caso in questa tornata elettorale non sono solo appunto le varie coalizioni c'è la coalizione di centro-sinistra ma anche il Movimento 5 Stelle c'è stato appunto un netto calo per quanto riguarda i pentastellati relazionato ovviamente alle ultime elezioni alle ultime politiche insomma alle ultime elezioni nazionali che vanno sempre ovviamente messe e prese in considerazione sotto altri aspetti però ecco il Movimento pentastellato ha registrato un netto calo ricordiamo sempre che correva da solo quindi non c'erano coalizioni c'erano due coalizioni una di centro-destra e una di centro-sinistra il Movimento 5 Stelle che ha corso da solo e anche qui abbiamo le dichiarazioni della candidata insomma della leader in questo caso che era Sara Marcozzi quindi andiamo ad ascoltare appunto ai nostri microfoni la Marcozzi dopo aver appreso il risultato delle elezioni regionali sani di voti che si spostano da una lista all'altra che passano dal centro-destra al centro-sinistra alla Lega con una disinvoltura straordinaria è evidente che non possono essere partonati però è una campagna elettorale che hanno fatto i leader in prima persona Di Maio che ha accompagnato spesso lei Salvini che è stato a lungo qui in Abruzzo l'hanno fatta anche sui temi nazionali quindi questo non può essere un risultato che non può essere letto anche in chiave nazionale Noi abbiamo portato avanti i temi regionali lei mi sa dire un tema regionale che ha portato avanti il candidato di centro-destra? Come vuole dire il candidato di centro-destra al nuovo presidente? Beh, gli voglio dire di portare avanti i temi del Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle ha portato avanti tutti i temi che interessano agli abruzzesi in questa campagna elettorale cioè una sanità che funzioni la manutenzione delle strade il rilancio della nostra regione è quello che continueremo a fare insomma è quello che abbiamo fatto in 5 anni ed è quello che continueremo a fare per il bene della nostra comunità L'ultima domanda? Oltremmo siete riusciti a comunicare agli abruzzesi in questa campagna elettorale? Io credo che non hanno bisogno noi non abbiamo davvero nulla da riproverarci abbiamo fatto un ottimo lavoro negli ultimi 5 anni abbiamo fatto un buon lavoro in questi ultimi 2 mesi abbiamo trasmesso temi tanto è vero che, ripeto, la fiducia che ci era stata data 5 anni fa è esattamente confermata forse sono gli altri, Partito Democratico e Forza Italia che dovrebbero farsi un esame di coscienza Ha già sentito Di Maio? No, non ancora Queste quindi appunto le dichiarazioni di Sara Marcozzi lo abbiamo sentito, insomma quello che avevamo un po' anticipato anche noi sul fatto che il Movimento 5 Stelle appunto di fatto ha corso da solo in questa tornata elettorale la Marcozzi ha accusato insomma vari esponenti politici di aver cambiato anche bandiera in alcune situazioni aver formato cosiddette coalizioni eccessivamente allargate e paradossalmente, come dire, creative a livello politico ma lo ricordiamo appunto è una vittoria netta per quanto riguarda il centrodestra e in questo caso, lo abbiamo visto anche poco fa è la Lega che vince sotto tutti i punti di vista allora stiamo per arrivare praticamente al termine della nostra prima parte della rassegna stampa quindi andiamo a vedere le previsioni del tempo poi facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra pochissimo per riaggiornarci sulle grafiche quindi per quanto riguarda le elezioni politiche poi andremo a vedere gli argomenti di cronaca e sport a tra poco Buongiorno a tutti gli amici di Super J dopo i tepori della domenica grazie alle correnti meridionali che hanno trascinato su aria calda direttamente dall'Africa settentrionale in queste ore sta entrando aria fredda proveniente dalla Scozia dalla Valle del Rodono il tutto sarà causa di forti contrasti termici che porteranno a ventilazione piuttosto sostenuta e qualche rovescio di pioggia e grandine su tutte le zone orientali della regione inoltre avremo un calo della quota neve perché l'aria si raffredderà notevolmente anche se questo raffreddamento sarà più marcato nella giornata di martedì e soprattutto mercoledì quando si raffacceranno le nevicate a basse quote specie sul sud regione a seguire alta pressione e inversioni termiche ma con temperature che tornano miti visto che si esaurisce l'afflusso freddo dei quaranti settentrionali e dunque ci aspettiamo una seconda parte della settimana più umida e meno perturbata passiamo ora alle previsioni del tempo per oggi lunedì 11 febbraio nuolosità variabile a tratti intensa con precipitazioni associate sparse anche a carattere localmente temporalesco e accompagnate da forti raffiche di vento intorno ai 40-50 km orari non si esclude qualche locale ma breve grandinata torna la neve a quota intorno ai 1000 metri ma in calo nel corso della serata i marri diverranno tutti mossi per venti sostenuti di maestrale le temperature saranno stazionate nei valori minimi e compresi tra 2 e 5 gradi in forte calo nei valori massimi e compresi tra i 4 gradi delle aree interne e 10 gradi delle aree costiere per ora ho concluso grazie della cortese attenzione e un buon lunedì a tutti da Pierluigi Bene, rieccoci qui a di prima mattina allora inizia questa seconda parte della nostra rassegna stampa prima di cominciare a vedere anche i principali titoli per quanto riguarda la cronaca e anche la pagina sportiva essendo appunto lunedì vediamo, diamo un'ultima occhiata agli aggiornamenti per quanto riguarda i dati delle elezioni regionali quindi vediamo appunto eccoli qui tutte le percentuali scrutinate 1296 sezioni su 1633 c'è un calo per quanto riguarda Marsilio che attualmente è al 48,95% Legnini che va sul 31,17% la Marcozzi al 19,42% la Lega resta sempre il primo partito con il 27,84% seguita dal Movimento 5 Stelle al 18, praticamente al 19% 18,94% e poi terzo posto questo per quanto riguarda appunto i partiti specifici per il Partito Democratico all'11,23% Forza Italia al 9,26% mentre Fratelli d'Italia al 6,92% e poi vedete anche tutte le altre liste insomma sia liste che partiti Allora chiudiamo praticamente questa ampia pagina dedicata alla vittoria di Marsilio quindi alle elezioni regionali e andiamo a vedere adesso quelli che sono i principali argomenti trattati dai quotidiani abruzzesi appunto in questa giornata partendo ritornando sul quotidiano il centro andando a vedere appunto gli argomenti principali in questo caso si parla del recupero del monumento del Castello della Monica apertura al pubblico entro l'anno proroga del finanziamento con il sindaco D'Alberto che imprime un'accelerazione lavori per sistemare il giardino e i primi due piani lo stesso sindaco che dichiara apriremo una riflessione partecipata con la città per individuare una specifica destinazione dell'edificio si parla poi anche di scontri tra gli ultras in questo caso è riferito agli scontri che sono avvenuti tra gli ultras del Teramo Calcio e quelli del Rimini nella giornata di sabato in arrivo 40 ad Aspo la polizia sta vagliando le posizioni dei tifosi di Teramo e Rimini identificati dopo i tafferugli di sabato a Roseto poi l'applauso di 3.000 persone al galà di pattinaggio è stato appunto un successo la 34esima edizione di Sport per la vita donati 42.000 euro alla Lega Fibrosicistica e all'Unital se vedete anche le foto di un gremito palazzetto appunto per quanto riguarda Roseto la giornata del ricordo con la cerimonia a Teramo deposta una corona dall'oro per le vittime delle foive vedete anche appunto il sindaco d'Alberto e poi a Martinsicuro un allarme appunto il mare rosso forse sono le alghe il mare appunto colorato di rosso nella zona sud del litorale di Martinsicuro è probabilmente causato da una proliferazione di alghe sono state tra l'altro prelevati campioni di acqua per le analisi andiamo adesso a vedere invece nello specifico la pagina dedicata allo sport partendo ovviamente dal calcio il Teramo lo ricordiamo ha vinto una partita importantissima sabato contro il Rimini 1 a 0 e si parla in questo caso c'è un'intervista al portiere Gomis il Teramo mi sento un leader il portiere abbiamo reagito da uomini dopo le contestazioni tra l'altro domani il diavolo sarà in trasferta a Fano apriamo adesso la pagina del calcio giocato in questo caso la Serie D con il girone F che vede il Real Giulianova ottenere un punto in casa contro il Forlì il Real Giulianova un pari rimonta col Forlì stesso copione dell'andata finisce quindi 2 a 2 delusione per il tecnico Bolzan amareggiato per la prestazione offerta nel secondo tempo abbiamo praticamente smesso di giocare Giulianova quindi che si salva con la doppietta di Francesco Di Paolo che vedete anche in foto continuiamo appunto a vedere gli altri risultati in questo caso si parla della bella vittoria del Pineto contro la Savignanese 2 a 1 Capitan Pomante spinge il Pineto al quinto posto Biancazzurri avanti con Esposito Longobardi pareggia all'ottantatresimo il difensore manda KO la Savignanese quindi buona insomma ottimi tre punti per i ragazzi di mister Amaolo dalla Serie D scendiamo in eccellenza in questo caso andiamo a vedere i risultati che ci interessano nello specifico che coinvolgono le squadre Teramane il Martinsicuro che perde in casa contro i Nerostellati di Prato Lapellini a 2 a 1 reti di Giallonardo e Puglielli per i Nerostellati tre punti di speranza a Martinsicuro restiamo sempre in eccellenza si giocava il derby tutto Teramano appunto tra Nereto ed Albadriatica vinto dalla squadra di Zotti in rimonta colpo dell'Albadriatica Nereto la beffa arriva al 92esimo finisce 3 a 2 per gli Albensi il Pontevomano che pareggia 1 a 1 con il Miglianico Miglianico in vantaggio acciuffato dal Pontevomano tutto nella ripresa con Battista e Marcozzi e poi la vittoria importantissima della Torrese lo vedete sul campo del Delfino Flaccoporto vince in casa del Delfino con la rete Di Maio la Torrese si piazza da sola al secondo posto vedete anche la foto del bomber Maurizio Chiacchiarelli vittoria appunto molto importante per i ragazzi di Mister Cristofari dall'eccellenza ci spostiamo in promozione ci interessa ovviamente il Girone A dove si è giocata la 24esima giornata e qui c'erano scontri molto interessanti per quanto riguarda la zona alta della classifica uno di questi era appunto Castelnuovo Nuova-Sante Gidiese con il Castelnuovo che in pratica lo vedete torna il Sereno scacciata la serie negativa vincono 1-0 i Neroverdi di Menaguale che si impongono nel big match con la nuova Sante Gidiese il successo firmato da Ciannelli arriva dopo 3K di fila ed il cambio di Panchina un altro scontro importante per quanto riguarda la classifica era quello tra Torni in parte Angizia Luco era praticamente un testa-coda essendo il Torni in parte ultimo in classifica la capolista Angizia Luco basta un gol realizzato al 15esimo della ripresa da Moro quindi mantiene la classifica la formazione di Mister Giordani andiamo a vedere le altre partite il Mutignano che fa suo il derby con il Borgo Santa Maria vincendo 1-0 Montorio che rifila il Tris vedete Tris con il Fontanelle 3-1 per i ragazzi di Mister Di Luigi finisce 1-1 tutto in tre minuti tra Real Treciatria e Pucetta mentre la Rosetana cala il poker con il Tossicia che addirittura si era illuso del vantaggio 4-1 per la formazione di casa finisce 1-1 invece tra San Gregorio e Morodoro con il San Gregorio che si salva nel finale 3-0 appunto del Santomero per Oddi Mister Oddi è la prima gioia 3-0 appunto contro lo Sportland Celano e poi il Piano della Lente che mette nei guai il Mosciano 2-1 in trasferta per i ragazzi di Mister Muscara al Rodi di Mosciano questa quindi era la pagina per quanto riguarda il calcio adesso andiamo a vedere la pagina dedicata al basket in questo caso non si è giocato o perlomeno si è giocato il campionato di Serie A2 ma Roseto ha assunto il ruolo da spettatrice la squadra di coach d'Arcangeli giocherà mercoledì alle 20.45 a Iesi e quindi andiamo a vedere tutte le altre partite per quanto riguarda invece la Serie B la Teate allunga la Serie sì dopo una battaglia con Nardò i pugliesi tengono in equilibrio il match fino al lungo decisivo di Chieti a tre minuti dalla fine consolidato il secondo posto il presidente Marchesani che ringrazia appunto lo vedete lì grazie ai nostri splendidi tifosi mentre coach Cohen si gode appunto quest'ottimo momento dei suoi ragazzi la squadra è stata brava anche a gestire l'attenzione dimostrando maturità finisce quindi 90 a 75 per il Chieti e tra l'altro risultato a sorpresa è lo scivolone dell'Amatori a Porto Sant'Elpidio 86 ad 85 e il presidente di Fabio che letteralmente si infuria il patron pescarese che dichiara salvo solo il coach Stefano Raiola e due senior ora faremo mercato e qualcuno finirà in tribuna a Porto Sant'Elpidio terzo K.O. di fila per le 11 compagni che partono bene ma poi sbagliano troppo e vanno sotto nel punteggio nel finale il tentativo di rimonta non va a buon fine si giocava però il derbissimo tra Giulianova e Campli che è stato vinto dai giuliesi di coach Cesare Ciocca il Giulianova piega un buon Campli e torna a sorridere prima vittoria del girone di ritorno per i giallorossi i farnesi combattono alla pari fino al 33esimo poi cedono 90 a 76 tra l'altro Campli che in settimana che la scorsa settimana aveva venduto il suo pezzo più pregiato Jakov Milosevic che è andato appunto a giocare con il Napoli basket di coach Gianluca Lugli ha osservato un turno di riposo l'Adriatica Pres Teramo che tornerà a giocare domenica al Palas Capriano contro Bisceglie questa era la pagina appunto sportiva del quotidiano Il Centro adesso andiamo a vedere invece i principali titoli di cronaca e dello sport del quotidiano Il Messaggero che in questo caso dà spazio appunto vedete qui tutti in fila dal Vescovo Leuzzi ma a me preve con l'atterrato dichiara appunto il Vescovo la Dioce si è diventata come la terza camera di Vespa Conte Di Maio Salvini Berlusconi e tra poco anche Mattarella il Vescovo che dichiara la solitudine colpisce anche i leader politici e adesso un fronte compatto per la ricostruzione Si parla anche del terzo posto del volo vedete qui al Festival di Sanremo con Ginobile che è felice dichiara il volo ringrazia l'Abruzzo quindi ricordiamo terzo posto per il trio abruzzese poi per quanto riguarda invece la Val Vibrata cartotecniche G di posti di lavoro di nuovo a rischio con il sindaco Vagnoni che convoca subito un tavolo dopo il no di alcuni dipendenti all'accordo mentre a Giulianova in Compiute che dichiara serve un dirigente al comune e sempre a Giulianova un collegio di difesa per i ragazzi di verso adesso vediamo invece la pagina sportiva partendo sempre dal capitolo che è dedicato al Teramo e anche in questo caso c'è l'intervista realizzata al portiere Lisgomis con il portiere appunto al debutto decisivo nel salvare il diavolo abbiamo reagito da uomini veri e il titolo esplicito Lisgomis si prende il Teramo il presidente di Lega pro Ghirelli sugli incidenti appunto tra gli ultra le due società debbono fare pulizia interna così ha dichiarato il presidente della Lega pro per quanto riguarda invece la serie D Notaresco vittorioso ora pensa in grande e sempre in serie B in serie D scusate andiamo a vedere i risultati il Pineto vince e vede i playoff di Esposito e Pomante le reti del 2 a 1 la squadra di Amaolo è al quinto posto quindi vittoria importantissima contro la Savignanese mentre Giulianova si salva Di Paolo Doppietta toglie dei guai il Real Giulianova non doveva giocare poi con due gol ha siglato il 2 a 2 finale e tra l'altro mister Bolzan lo vedete qui che dichiara nel post partita sono scontento del gioco espresso dalla squadra con troppi lanci ma lodo comunque l'impegno restiamo sempre appunto nella pagina sportiva del quotidiano il messaggero in questo caso si parla delle partite di eccellenza con il titolo che viene appunto dedicato ovviamente alla vittoria della torrese che vince fuori casa e si avvicina alla vetta l'albadriatica inarrestabile si aggiudica anche il derby con il nereto San Buceto KO e infine chiudiamo con il basket in questo caso si dà ampio spazio all'ottimo momento del Chieti di coach Piero Cohen teate il coach Cohen ora non si fermano più decimo successo consecutivo scavalcata l'amatori Pescara in piena crisi battuta a Porto Sant'Elpidio Giulianova batte Campli nel derby quindi davvero un ottimo momento per i ragazzi di coach Piero Cohen e infine una intervista realizzata da Luca Maggitti al playmaker del Roseto Sharks Giancarlos Rodriguez classe 94 Rodriguez il multiuso che fa grande Roseto lo squallo dei Caraibi che dichiara possiamo puntare playoff siamo un buon gruppo e lo ricordiamo Roseto sarà impegnata mercoledì sul parquet di Iesi alle 20 e 45 bene sono praticamente quasi le 8 meno un quarto siamo arrivati al termine della nostra rassegna stampa io do l'appuntamento come sempre a domani mattina in diretta alle ore 7 vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro una buona giornata a domani grazie a tutti Grazie a tutti.